Dottore! Partito! Ciao! Saluto al pubblico YouTube, Sierra! Dottore! Che ero tu? Tipo le 10.50... Sì, ho manco l'orologio! Sì, stiamo andando... Dopo mesi e mesi di lavoro stiamo andando da questo studio Non ti sento con... Spaccati la testa! Per trattino! Per trattino! Cap! A prestito! Sì! Craiji! karşistina! Anche... Grazie! Grazie! Ora Musica c'era oggi il tasco sborto, la notte leoni, la mattina coglioni eh siamo arrivati, quasi, perché era incappiato, io vengo a vedere l'uno ciao andiamo in questa terra di casa ma che sta a fare? ciao 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 vedremo macchia sul vlog vediamo chi è questo macchia enigma vediamo uno studio qua vediamo il macchia che sta blagherando ok questo è il microfono e niente abbiamo finito la ruota del chiasco non 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 non